L'edizione dello scorso anno 2021 di Hotel Margherita in Gezza era per festeggiare i 50 anni della struttura. Ci è piaciuta talmente tanto e ci siamo trovati così bene in questo contesto in cui siamo riusciti a mescolare varie forme d'arte, quindi la musica, la bellezza del paesaggio, la buona cucina, il vino, lo stare insieme, che abbiamo voluto farlo diventare un evento che si ripeterà nel corso degli anni. E così vi proponiamo Hotel Margherita in Gezza. Quest'anno lo abbiamo abbinato a una novità che abbiamo nel nostro ristorante, che è quella degli chef dell'Alleanza, quindi accanto alla buona musica, quindi al Gezza di altissimo livello, con nomi veramente d'eccezione, presenteremo dei menu legati ai prodotti del territorio, a quelli dell'Arca del Gusto di Slow Food, con la possibilità quindi di degustare i prodotti della campagna presentati anche da piccoli produttori della nostra zona. Il bello di questa occasione è di condividere con tutti voi un momento di pace, di gioia, di serenità. La musica per me rappresenta un legame che riesce a congiungere il cielo e la terra, ci rende tutti fratelli e amici anche in culture diverse, in linguaggi diversi, quindi ci accomuna e ci fa vivere un attimo di eterno. Grazie a tutti! Grazie a tutti!